Il mio nome è Gabri Costa e in questo gioco voglio farvi una sorpresa, un personaggio animalesco da personalizzare. Questa volta andiamo a personalizzare Kuma. Riodatevi che Kuma è un orso, è un personaggio animalesco che piace a me. E infatti possiamo usare subito i suoi vestiti. Partiamo con gli occhiali, che sono 18. Vi faccio ricordare una cosa, vi faccio ricordare che in natura gli orsi sono onnivori. Mangiano la frutta, la carne, il miele e il pesce, che sarebbe il salmone. Guardate, c'è un bell'accessorio per lui, un vaso di miele. Mi sembra che non ci sia altro da vedere su questo personaggio animalesco Kuma. Vi posso salutare. Ora iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. E vi faccio ricordare che Kuma era l'animale domestico di Eiyashi Mishima. Ma siccome Eiyashi non c'è più, ora è da solo Kuma. Ciao a tutti. Ciao a tutti.